structure non è vero in realtà...itt on tutto io mi sta facendo un cazzo è vero aspetta fammi abbaffare un attimo la ... carissima simpaticissima render distance weh weh allora la macchinetta cioè noi siamo milanesi e cioè cioè milanesi con l'aria aperta cioè cioè la macchinetta mamma mia de' ma no quello no quel letto scanaccio quel letto no eh quel letto scanaccio de' cioè cioè boia de' cioè che poi cioè la proton crystal ne posso prendere uno no perché non c'hai no poi e dove li metti gli electronic circuiti poi e che cazzo ne so ma ce li ha gli electronic circuiti poi ah vabbè leva leva quelli dance hopper leva il dance hopper l'ho tolto io guarda che gentile ma perché c'è un botto d'oro qua dentro ma vaffan gala è perché tanto tu pensai che era finito quindi tanto vado a dire che stava lì sì sì sims legit che figlio che sono proprio riprendo io dai così è più spazio non so a cosa che servono per fare le mfsu e ma serve anche l'advanced machine block ce l'abbiamo queste cose carbon play va a fare carbon plate va no non abbiamo fatto niente smelting power fornas pulverizer abbiamo più rubber che cos'è sta storia cos'anno solo 1340 ah ecco eh sì con le nuove ok carbon io direi che me ne faccio tipo quattro stack che ne dici sì quattro stack possono bastare legge te le metto meravigliose veramente 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 taric falgot andiamo a mettere queste cose nel maseraturo ma quanto ci mette ah beh ma non c'ha manco ma dove mettere il maserator o nel compressator compressator no maserator proprio 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 cioè next level 11 vedai un po' di gemme rifinite per favore eh che gemme se vuoi ah c'ho una gemma è verde la vuoi dammela dove sei la voglio ah sei da sotto ma perchè c'è la tripwire qua tripwire volevi incastrarvi si ma perchè parli con questo tono molto gay volevi farmi bandire dal gay prime era un rave in realtà volevi farmi bandire dal gay prime perchè non vuol dire un cazzo ma sicuramente vuol dire molto di più che a me mi serve il refiner di iron no no vuol dire farmi bondage dal gay prime ecco già un po' più di senso eh beh insomma e di sesso eh eh ok eh ti dispiace che tolgo il coper dato che cazzo ti serve al coper a me serve di più.-付 perugno viva shitt eh ok allora posso levarla io levo le 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 ho ma 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 chiusi la devi smettere se hai l'altura di coglioni mamma mia ha' che boia boia bora Cioè ma lo sai che il Toscano si attacca proprio Io te l'ho detto che ho giocato tipo per due anni con un Livornese Ogni tra quattro e die secondi diceva tipo De, 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 boia de, boia de Cioè pisellalo, pisellalo De, de, così tipo Vabbè Ci fece anche dei video Ci fece anche dei video Giravano su Facebook un po' di tempo fa Proprio anche botto di views tra l'altro Però ho dovuto cancellare perché Dopo ho scoperto che l'ho registrato Non è stato felice Ho bisogno di patate Vabbè vado a prelevarle Oh shit Non abbiamo più patate Anzi ecco le patate Hang on a patato de shit T'ho più Eh ma poteto Eh te l'ho rimesso da dentro Cioè quanto axel sei? Quanti? Nel senso che devi craftarli O che devi prenderli? Gli altri otto me ne servono Sì otto Non dire cazzate Sono tutti che sono sette in realtà Ma secondo me no Ti devo illustrare la teoria del dottor culo cane Per caso Non è studiato a scuola Ma non lo so Mi vanno spiegata Ma a me non me ne frega Un cazzo Sette cazzi Sette cazzi Non uno Oh cazzo Ma sto spinnando roba da tutte le spinne 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 spanne spanne Spinne 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 spanne 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 Ok sposiamo sta merda Hang on a posare di smern Una grocola La 18 block 18 e i terroristi partono sempre in vantaggio quei troioni cioè ora che hanno messo una pistola silenziata un po' un po' però insomma cioè i terror sempre in vantaggio poi vabbè se siamo su D2 partono sempre lunga cioè con la precisione in più devastano tutto eh sì col cazzo perché se era corta cioè mica si sa che cose lunghe sono performanti lo sanno tutti più uno proprio di piedi affonda di cazzo sfo... che cazzo eh niente eh che me serviva ah sì la glock eh per fare la glock ci vuole l'albero grazie tesorino vero eh miam 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 l'hai vista l'ultima puntata di naruto io tipo ho iaculato tre volte di seguito appena l'ho vista perché c'era sakura oh ok no 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 c'era la volpe a nove code nami eh sì dico aria no 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 quella ne ha quattro eh no ne ha quattro quello è tipo il quattro code che è come si chiama son goku no ma che no è ne ha quattro è son goku quella che poi son goku è anche masca tu sei... tu sei non sto... oddio nooo 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 quindi darò semplicemente tutto a te c'è un bel caffè un problema? nooo nooo ah ma hai sonno poverino poverino... hai sonno ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah ho sentito... ho sentito coso... coso chi? no ma fa come farenz che farenz dice wow cazzo ah sì no no figa ah beh sì che tipo nella... cioè ma... e son tutte cose particolari della... della zona in cui abiti alla fine perchè... cioè non è che uno va in giro a dire cazzo figa cazzo figa cioè se non hai uno di milano cioè mica va cazzo figa cioè cazzo figa già già voglio dirci ma scusa ma dei carbon plate quante ne hai fatte? ehhh carbon plate no aspetta io sto ancora macerando il cuore cosa sono le carbon plate? no 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 ne ho cinque perchè te lo date io? sono dovuto a dartele ne ho altre cinque ne ho altre cinque fermati fermati si non riesco ad entrare in casa qua ne passano altre due su un serio? si pezzo in mezza ok ehm queste qua buo vergogna buo 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 adesso dobbiamo piazzare il tempo e vedere bu ok 3 20 22 ma non te ne servono altri quindi no no vabbè io lascio fare lo stesso ma non so ne frega ma che ma se sei ma che no ma non so sei ma di ma se non ma si ma no ma si ma no ma si ma dai ma si ma no ma cazzo fai ok aspetta prepariamoci all'esplosione atomica N intento eccola ma perché hai acceso ah no era spento vabbè ora non lo li speggno accendilo proviamo a vedere e' acceso ma perché li hai messi qua gli MFC su guarda Guata neg à 1m1 oh bababia mi sto emozionando Oh mamma mia, Axor 1 1, molto esclamativo Mamma mia E l'altro E l'altro lo metti in alto Ma cosa? Ma se c'è il cavo Segui il cavo, no? Eh no, ma da sopra non si vede Si che si vede Basta seguire il cavo che hai messo prima Ma va, ma che Ma non hai memoria, io mi ricordo perfino Il blocco preciso No, io mi ricordo il blocco Eh ma mettiamolo in superficie Perché almeno riusciamo a vedere Quando è carico Allora mettilo qua Aspetta Ma no, andava bene Eh no, perché avevo perso un cavo Vai Oh my good L'energia 1 1 Quello che dobbiamo fa E se io facessi E se io facessi una cosa di questo tipo Eh? Eh? E se facessi Eh? Ah Che opera artistica E guarda, guarda, guarda Oh Tipo nella realtà uno mette un dito dentro ste glass fiber Eh in effetti Perfetti Infiniti volt di energia 1 1 E questi sono solo in output, eh? Cioè si riempono solo col reattore nucleare Perfetto Non se ne riempono con la lava e cagate Quindi adesso noi cosa facciamo? Quando noi vediamo che è pieno l'MFSU qua sopra Vuol dire che automaticamente è pieno anche l'altro E che quindi il reattore nucleare è pieno Facciamolo, facciamolo automatico Quindi Con i gate Poi gate Si Oppure semplicemente mettiamo da qua su un controller che lo spenge fino a sotto Eh no, facciamo proprio automatico con un gate che controlla Quando è pieno questo MFSU Invia un segnale Si Invia un segnale Al carissimo amicissimo 1 1 E basta No, in realtà neanche questo Mi segui? Seguimi Eh, cosa? No, segui, no, letteralmente Eh Cioè Questo è il secondo della fila Quando quello proprio sopra il reattore è pieno Allora è pieno pieno Eh, si, vabbè, si E quindi mettiamo qua una specie di controller Quando questo è pieno Eh, inviamo un impulso che Spegne il coso Si, quando quello sotto è pieno Eh, ok Come si fa? Eh, come? No, no, si, si, no, è facile Allora Bisogna fare un gate intanto Eh, sempre sarà il gate Eh, il gate E poi ci serve la wireless redstone Presente, no? Un receiver e un sender Serve l'autarchic? L'autarchic gate? No Un gate Gate Allora, già lo sto fa Gate 1-1 Ah, punto esclamativo Ma una dormitina Forza I want to sleep, you know? Eh, eh, eh Oh, dopo il server fa una partita Ah, no, stiamo collegando i video Scherzavo Che? Niente Allora, receiver Wireless obsidian stick Oh mio Dio Ma è un casino Comunque, cioè Io tipo Ho rivisto Un video Della mia vecchia serie Ah, e ti è piaciuto? Ma carino Vero, sì Vabbè, bellissimo Uno, uno proprio Sì, sì No, no, hai ragione Sì, sì Sì, sì Posso parlare? Ma sì, sì C'è un tipo Sì, ma comunque poi ho visto Hai visto il film ieri sera? Su Come si chiama? Su Marese il premium Hottime No Ma hai visto, sì La pubblicità di Hottime Cos'è? Ah, sì, 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 sì Sì, sì, sì Il canale per adulti Che cazzo è questa roba E tu vuoi anche chiamarli? No, perché ormai sei maggiore in te Qualche chiamaglia direi Me la giungo da buon lamento Dici tipo Puoi comprare la carta media Se t'è anche in totale anonimato Ti devi vergognare Mi sembra della stonna Mi devo vergognare? Che cazzo è? Ho aperto gli porno per bari Invece no Eh, è Hottime Me ne servono tre Un, due, tre Era la pubblicità di Hottime Un, due, tre Ah Soprattutto che cazzo di canale sia Eh, se te c'è Ah, non lo so No, no, no che canale Nel senso qual è il canale Ah Nel senso Chi, chi, chi Anche per una cosa del genere Chi, chi, chi Pagherebbe addirittura Ah, beh, lascia stare Lascia stare Cioè, io ce l'ho Ma era Mediaset Premium però Sì Ah, beh, fatta aggiungere a buon lamento Ah, ce l'ho già Chi, chi fare Cosa Ce l'ho io Il canale Sì Ah, e allora va Scusa No, dico Sarebbe da stupido andarci Cioè Non si fanno ste cose Cioè Che porcate Cioè Davvero Cioè 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 E' che uno Cioè Davvero Cioè Delusione Cioè No, proprio delusione Cioè Che vuoi venire pure te No, no, io non posso uscire Eh Appena chiude la porta Tipo tutto il cilipo Vedi se la porta è ben chiusa Tutte i tapparelli Uno, due, tre, quattro Poi mi serve un pizzico di stone Uno, uno Tipo Basta un pizzico di zucchero E la che il pillola Va giù La pillola Eh, non sono la pillola Oh, cazzo Bravo, cosa hai fatto Esploso Boom, boom Sciacalacalaca No? Scherzavo, ovviamente Eh, sì Lo volevo grabbare Senza farle esplode Beh, poi tipo Fate le esplode Viedi Chi? Creeper E ti è esploso in faccia Asuka No, non intendevo essere così Rude, mi dispiace Sì, invece Asuka Ok, allora facciamo uno così Ma mò è acceso o spento? Spento? Penso No, acceso Ok, cioè Sia il receiver Che il transmitter Transmutter Mamma mia come muta Mi porto anche dietro Giusto Uno screw Uno screw Giusto perché Così Necessari Uno Uno Ma l'hai fatto il gate Sì? Io, sì Sì Oh shit Madafacca C'era uno scheletrunze Che scheletrunze C'è uno scheletrunze Attenzione Attenzione Il colpo Il colpo Danca Pum Alla disco Dance E' vicino al nuclear reactor Uno uno axola Sì, aspetta Non l'ha sfigato Ok, ormai è diventato un masterpiece questo E se io togliessi Dei metodi di raffreddamento Da questa cosa E rimanessi solo l'uranio Tipo tempo un minuto E perdiamo la mappa Interessante Tioria la tua Sto attenevando la leva Ma l'hai spento prima Magari, sì Eh, se levo la leva Levo la leva Ehm Lotterò Advanced Allora Ehm Nuclear Reactor Axor Uno uno No, non posso mettere uno uno Ale, perché dobbiamo Perde la mappa Dopo 150 Ehm Reactor Axor Axor Uno uno punto esclamativo Set name Ok Il receiver è settato Ora Metti il gate No, è tornato su Aspetta No, dove vai Torna Su 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 Qua Qua No Qua Piazza gate Ehm Ma ce l'hai la pipe Giusto Direi Oh mio Dio Se fappi un po' di più Ti libererai Da questo peso Che hai Troppo figa sta caverna Fatta così Tipo inesplorata Con un reattore al centro Ahah Cioè Cioè Molto Axor Decisamente Ah ma L'ho presa delle pipe Ce l'hai delle pipe Quella No Ok C'ho niente Qua sotto Metti Vai Attacca Attacca Alla giugolare Vai Morti Attacca Vai No Non la pipe Ok Ora Quando Capacitor Is full Redstone Signal No Space for energy Redstone Signal Ok Ora mi serve la pipe Che non ando a far sotto Quindi gg Cioè sopra Non sotto Non so perché Ma era la voce di spongebob Quella lo sai Quale Quella Spongebobbosa Quale Spongebobby Come si fanno le pipe Si le pipe Le pipe Queste ecco Red pipe wire Redstone Iron ingot Ok Redstone Iron ingot Mi serve una rosa C'abbiamo una rosa Rose rosse Per te Porco Il cane che sei te Il cane che sei te Ma riesco a uscire Ok Sono uscito prima io che sto cazzeggiando Ma si che sei axel 11 Che sei axel 11 Cos'è successo Ah ok me la fate di stampa I don't give a shit Ehm Pendi della redstone Proprio redstone normale Vai corri Attacca vai Attacca la cesta Alla giugolare vai! corri 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 co-corri ok si! Funge! oddio Ok, dovrebbe funzionare Controlla Prende energia Sì, anche a manetta Sì, sì, sì Quando, allora, clicca Vabbè, sto registrando io che te frega, perfetto Per questo episodio è tutto Io vi invito a lasciare un mi piace se avete gradito l'episodio Ad iscrivervi al canale Sia il mio o quello di Brent Per restare aggiornati sui prossimi upload Sia di questa che di altre serie Sia che carichiamo un video a testa se non l'avete capito Dopo 150 intro che lo diciamo Eh, 150? Sono così tante, minchia Vabbè No, no, in realtà è 140 Ah, ok, ok, va bene Quindi per questo episodio noi vi saluto Ciao, 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 ciao Ciao a tutti Che hai detto, va a finire? Non lo so Oh, ma non si interrompe, che cazzo?